La Marina si presenta come un quartiere carico di storia che cerca lentamente di trovare il giusto modo per valorizzare le sue bellezze, spesso messe in pericolo dall'incuria e dal degrado. L'ex chiesa di Santa Lucia, che sorge tra via Sardegna, via Nuoro e via Barcellona, è un tipico esempio. I lavori di restauro, iniziati nel 2007 con uno stanziamento di fondi per 42.500 euro, non sono mai stati ultimati. I turisti che visitano le vie del quartiere non possono nemmeno ammirare il rudere, perché questo è coperto da un'orrenda palizzata in legno vandalizzata dai graffiti. Secondo il comune, i lavori non sono più urgenti come un tempo. Sarebbe però sufficiente sostituire la struttura in legno con una in vetro, o perlomeno con una recensione più dignitosa, così come promesso tempo fa dal sindaco Floris, per restituire un aspetto meno decadente alle vie circostanti e alla storia che rappresentano.